Questo video illustra alcuni esempi di utilizzo del generatore per le conversioni di energia PASCO ET8771A. ET8771A è costruttivamente molto semplice. Un potente magnete al neodimio è calettato su un asse e ruota tra due bobini, visibili in trasparenza. Quando l'asse gira, viene prodotta una differenza di potenziale tra questi due contatti. In questo video utilizzeremo anche ET8783, l'accessorio turbina eolica, che è costituito da una semplice elica a 5 pale e uno spaziatore. Montate il generatore su un supporto orizzontale posto abbastanza in alto. Possiamo notare immediatamente come apporre un minimo carico, per esempio il LED fornito a corredo ai capi dei contatti, provoca un'evidente differenza nel modo in cui gira l'asse. Anche il piccolo carico del LED produce una sorta di freno elettromagnetico molto efficiente. Tuttavia, il LED che lampeggia di due colori dimostra che viene prodotta una corrente alternata. Il LED è infatti del tipo che cambia colore in base al verso della corrente. Per effettuare misure utilizzeremo come carico la resistenza da 100 Ohm fornita a corredo. La montiamo sul generatore e ai suoi capi mettiamo i contatti di un sensore di tensione Pasco, qualsiasi modello. Siamo pronti per prendere le misure. Se utilizzate un'interfaccia serie nera, dichiarate di collegare al primo canale il sensore di tensione. È in fondo alla lista. Sensore di tensione. Ok. E impostate la frequenza di misura a mille misure al secondo. Chiudete la finestra per accettare. Se invece utilizzate un'interfaccia serie blu, appena collegate il sensore, compaiono le misure di tensione e corrente, se state utilizzando un sensore tensione e corrente. Sempre da Imposta, scegliete di non visualizzare la corrente, ma solo la tensione, e anche qui elevate la frequenza di misura a mille herze. Chiudere. Per misurare la potenza, utilizzeremo la formula potenza uguale di quadro diviso R. Richiamate il calcolatore di Data Studio e digitate una formula che sia chiara per voi, per esempio, pot, potenza, uguale a V elevato al quadrato diviso R grande. Accetta. Data Studio vi chiede che cosa siano V ed R. V è una misura dei dati, la tensione. Ok. Mentre R è una costante e nel nostro caso vale 100. Le grandezze sono tutte SI, quindi avremo una potenza direttamente in Watt. Accetta. Come primo esperimento esaminiamo la conversione di energia potenziale gravitazionale in energia elettrica. Abbiamo legato qualche decimetro di filo alla puleggia. A questo piccolo cappio attaccheremo una massa di circa 100-150 grammi e avremo predisposto un tappetino di gomma a piuma per farla cadere. Eccoci pronti per la prima misura. Cominciamo la raccolta dati con Alt-R e facciamo scendere la massa. Vediamo i nostri dati. Trasciniamo la raccolta 1 di tensione sull'icona grafico ed abbiamo ovviamente quello che ci si poteva aspettare. Un valore nullo all'inizio, una rapida corrente alternata e poi nullo alla fine. Con la lente di ingrandimento ingrandiamo la parte che ci interessa. Per un tempo molto breve che possiamo leggere qua sotto, circa un secondo, sono stati sviluppati circa 5 Volt. Vediamo la potenza. Trasciniamo sempre la raccolta 1 ancora sull'icona grafico. La potenza è ovviamente tutta positiva. Ingrandiamo. Anch'esso ovviamente va da valori positivi a 0 perché il magnete ha dei momenti in cui non produce potenza, quando è parallelo alle bobine. Il design di ET8771 in effetti è molto inefficiente perché il magnete non è circondato dalle bobine. Tuttavia la struttura aperta permette di vedere come funziona. Ma calcoliamo quanto è efficiente. L'energia che ha sviluppato, ovviamente, è l'integrale che sta sotto la potenza. Tuttavia ci fa comodo avere la potenza espressa con più decimali e possibilmente in Watt anziché con un generico Y su questo grafico. Quindi facciamo doppio clic sulla nostra definizione di potenza e dalle proprietà scegliamo il nome della variabile Watt e come precisione quattro cifre. Ok. Accetta. Di nuovo ingrandiamo. e andiamo a scegliere dal tasto sigma di attivare anche l'area. Attiviamo le statistiche e se le limitiamo alla zona dove è avvenuta la caduta. Vediamo un'area di 0,0394. In un foglio elettronico abbiamo messo la massa utilizzata 105 grammi perché è 100 grammi di massa più 5 di porta massa sono caduti per 0,8 metri quindi avevano un'energia potenziale mgh espressa in joule di 0,8232 abbiamo misurato 0,0394 che ci dà un'efficienza di poco inferiore al 5%. Ripetiamo l'esperimento avvolgendo il filo attorno alla puleggia più stretta di conseguenza il magnete girerà molto più velocemente o se volete farà più giri per la stessa quantità di filo che scorre. Raccogliamo e facciamo scendere. Prendiamo questa seconda raccolta dati la trasciniamo sulla solita icona grafico ingrandiamo un po' con la lente di ingrandimento evidenziamo la parte che ci interessa dopodiché chiediamo tra le statistiche anche l'area attiviamo le statistiche eccole qua e limitiamo le statistiche all'area di nostro interesse cioè da un po' prima del primo punto a un po' dopo all'ultimo punto utile risulta un'area di 0,3131 con gli stessi parametri di prima riguardo la massa all'altezza dell'energia potenziale otteniamo un'efficienza decisamente più elevata lasciamo a voi provare con diverse masse e con diverse altezze di caduta intanto abbiamo montato l'accessorio turbine eolica e abbiamo posto il generatore in fronte a un ventilatore azioniamo il ventilatore e quando il sistema si è stabilizzato dopo qualche secondo incominciamo una breve raccolta dati ovviamente qui siamo in un regime sostanzialmente costante ecco la nostra terza raccolta in effetti abbiamo creato un generatore di corrente alternata eolico non di potenza entusiasmante però il valore medio è intorno a 25mW decisamente pochino tra gli accessori di ET8771 ricordiamo il volano e il kit turbina idroelettrica il loro uso è assolutamente analogo a quanto visto sinora per qualsiasi informazione contattateci i nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione